Lei, Anna Paola, nel suo quotidiano sente la diffidenza degli altri rispetto alla fede che ha scelto e questo le fa male? Guardi, è noto che la maggioranza delle persone ha dei pregiudizi su di noi, però io mi concentro su quelle che non sono poche, che parlano con noi volentieri, che ci stimano, che ci apprezzano, ci sono ditte che chiedono di avere dipendenti i testimoni di Geo perché sanno che siamo onesti. Non le persone che non sono della vostra fede? No, no, assolutamente, io parlo dei datori di lavoro, se noi viviamo nel mondo, quando uno studia la Bibbia, il passo di Giovanni, ma anche tutta la storia del popolo di Dio, quando qualcuno ha fatto la volontà di Dio non è mai stato accolto a braccia aperte dal mondo perché si pone dei valori, delle priorità diverse e quindi io lo sapevo, come qualsiasi testimoni di Geo lo sapevo, quindi non posso dire che mi faccia male, sinceramente, posso dire che mi dispiace che questa diffidenza crei una barriera con delle persone che potrebbero comunque, se vogliono, insomma, ampliare i loro orizzonti e quindi fare una scelta anche spirituale più consapevole. Questa barriera ce la impedisce. Lei si definisce una donna libera? Sì, assolutamente. Io sono profondamente convinta che Dio ci abbia creato liberi, liberi al punto di sbagliare. Ben trovati e benvenuti agli approfondimenti della redazione di Redonne. Quest'anno abbiamo deciso di approfondire il tema della spiritualità, della fede e delle religioni, dando voce a storie di donne che ci racconteranno il loro impegno e la loro vita di testimonianza spirituale. Iniziamo oggi parlando della storia di Anna Paola Ghigi, che è qui nei nostri studi e che ringrazio per essere qui, che ci racconterà la sua scelta di fede e la sua testimonianza come testimone di Geova. Ci accompagnerà in questo viaggio ed è qui anche oggi con noi Raffaella Di Marzio, che è direttrice del Centro Studi Lirec e psicologa della religione. Grazie intanto, Anna Paola, per aver accettato di condividere la tua storia e il tuo privato. I testimoni di Geova attualmente vivono nella società come tutti gli altri. I loro figli frequentano le scuole pubbliche e quindi sono a contatto con persone di tutte le religioni. I testimoni di Geova lavorano ovunque, quindi non sono un gruppo di persone che vive isolato dalla società. Questo è un dato di fatto. È vero però che la comunità dei testimoni di Geova ha delle credenze, delle prassi, dei comportamenti che li fa sembrare al pubblico generale, diciamo così, separati. Separati dalla società o separati dal mondo. In realtà, qualsiasi comunità religiosa che vuole veramente seguire determinate regole, pratiche, diciamo che sono scritte nella Bibbia secondo la loro interpretazione, ovviamente risulta agli esterni come una comunità strana. Ma questo non vuol dire che i testimoni di Geova non siano pienamente inseriti nella società. La loro caratteristica è che vogliono in tutti i modi preservare quello che la Bibbia insegna e Geova insegna anche se questo può sembrare alle persone che non credono nella loro fede qualcosa di particolarmente strano o anomalo o addirittura in alcuni casi patologico. I testimoni di Geova si ispirano alla Bibbia. Anna Paola, veniamo a lei, le do il benvenuto. Ci siamo incontrate prima di questa intervista perché tenevo molto a entrare a contatto profondamente con la scelta di vita di una persona peraltro nel suo caso, sopraggiunta non da giovanissima, poi ci dirà. Mi ha spiegato che il rapporto con la fede pervade la sua vita e il suo impegno per gli altri. Ci dice cosa fa per gli altri, qual è la sua attività di volontariato e di impegno sociale? Diciamo che una delle cose più belle che questa scelta di fede mi ha dato è quella di poter diventare, essere nominata ministro di culto per le carceri. Cioè io vado nelle carceri, qui a Roma a Re Bibbia ci sono tante donne, hanno bisogno di essere ascoltate e noi testimoni di Geova possiamo dare un aiuto basato proprio sull'ascolto attraverso le cose spirituali. Io ho visto personalmente davanti alle scritture delle detenute che si riempivano gli occhi di lacrime quando capivano che Dio non le aveva abbandonate, capivano anzi che Dio aveva fiducia in loro, le amava e voleva aiutarle con i suoi insegnamenti a cambiare vita, a essere persone accettate. E alla fine poi la Bibbia c'è pure un messaggio di speranza e questa speranza a loro dà una forte motivazione poi ovviamente. Ecco Anna Paola, prima di venire alla sua scelta di fede, proprio rimanendo sul suo impegno in carcere, quindi a contatto col dolore, con chi ha sbagliato, con chi ha violato la legge, cosa trova più faticoso e cosa più entusiasmante di questo suo impegno per gli altri? Ma guardi, io fatica, forse un po' emotivamente gravoso, perché ovviamente si tratta di ascoltare delle storie molto particolari, delle emozioni e un pochino me le porto anche a casa, cioè non è che smetti di pensarci quando esci, però no, fatica no, non direi, un po' gravoso emotivamente. Ovviamente, invece ci sono delle cose molto belle, perché io sono perfettamente, profondamente proprio convinta che queste donne si possono aiutare in modo concreto, solo se gli si riconosce, gli si dà di nuovo una certa dignità. È vero che hanno sbagliato, però deve partire un pochino da dentro, la fiducia, il fatto di dire, vabbè è sbagliato, però puoi cambiare. E questa cosa con la Bibbia si fa, si fa molto bene, loro, come ho detto prima, si rapportano con una realtà che va oltre il giudizio degli uomini, non sono più giudicate da noi, ma sono considerate. E proprio per questo, per dare questa dignità, io non ho mai chiesto a una di loro quale fosse stato il loro reato o quanto durasse la sua pena, non era per quello che io ero lì. Anna Paola, la sua conversione alla fede di Geova, quando è nata e com'è nata? Ebbè, avevo già una quarantina d'anni, 40 anni direi quasi, diciamo che ormai i miei obiettivi li stavo raggiungendo, li avevo raggiunti, ero una professionista apprezzata, avevo una famiglia, ero soddisfatta, diciamo dai, da tutti i punti di vista, però mi frullava sempre in testa una domanda, perché mi domandavo perché io sì, perché io stavo bene e tanti invece intorno a me no, io non ero migliore di loro, non mi sentivo migliore e siccome credevo in Dio pensavo che questa fosse proprio un po' un'ingiustizia e non riuscivo a capire come Dio poteva permetterlo. E così mi sono resa conto che avevo bisogno di una giustizia un po' più alta, universale e pensai di cercarla nella Bibbia. Così iniziai uno studio con i testimoni di Geova, non per avere un'appartenenza religiosa, che non mi interessava, ma per cercare lo scopo, il senso di questa esistenza così bella, preziosa, ma anche così precaria, così ingiusta in un certo modo. Ho fatto questo studio come un processo, perché io cercavo risposte logiche e in questa ricerca mettevo alla prova quello che studiavo, ci ho messo tre anni, quattro anni a laurearmi e tre anni per questo, ma non era uno studio accademico, era cercare di capire e nel cercare di capire e avere queste risposte io le ho trovate. Alla fine è stato come se un puzzle si componesse, come se tutti i tassellini andassero al loro posto e così mettermi in discussione mi ha fatto bene, perché ho trovato quello che cercavo veramente, ho eliminato tanti condizionamenti che senza saperlo comunque la società ci mette e poi ho capito che c'era la possibilità di vivere in un mondo più giusto e ho capito anche che era realistico lavorare per questo, fare qualcosa per questo. Quindi il suo femminile, Anna Paola, parlo nel privato ma anche nella sua vita pubblica, una libera professionista, ecco come è cambiato da quando lei ha scelto questa fede? È cambiato perché vede io in questa mia vita soddisfacente cercavo di fare tutto bene, tutto bene, solo che non ci riuscivo perché mettere in equilibrio tutti questi valori non era facile. E insomma poi ho capito una cosa fondamentale, che la scala dei valori non è orizzontale, è verticale. Questo parlare con le persone, io non ho mai conosciuto così bene la gente come da quando vado a parlare di cose profonde, le aiuto, alcune si lasciano aiutare e poi le vedo più felici ed è una cosa che nessun successo professionale mi avrebbe mai dato. E così sono contenta di aver fatto questa scelta. Una scelta consapevole in un'età diciamo in cui si è giovani ma non giovanissimi, quindi assolutamente ponderata e matura. A questo proposito volevamo fare un commento su un caso seguito direttamente e concretamente vagliato dal centro studi Lirec. La storia è di questa madre che è andata a dire ovunque, a scrivere ovunque, che non poteva più vedere le sue figlie perché lei aveva dovuto fare una trasfusione di sangue perché in punto di morte, quindi in un momento difficile e siccome l'aveva fatta, le sue figlie non volevano più incontrarla né vederla. Questa storia è girata in una maniera veramente assurda e a un certo punto noi di Lirec, soprattutto il nostro collaboratore più diretto Camillo Mafia che si occupa soprattutto proprio di comunicazione, ha detto perché non cerchiamo di intervistare queste ragazze. E alla fine siamo riuscite finalmente a sentirle. Le ragazze hanno detto che questo modo della madre di andare sui giornali aveva rovinato la loro esistenza e loro non avrebbero mai voluto parlare di cose personali, di famiglia però ringraziavano perché almeno una voce potevano darla anche loro. In sostanza non era vero, loro dicono che la madre non era in punto di morte, comunque sì, ha voluto fare una trasfusione e l'ha fatta liberamente e nessuno gliel'ha impedito. Il motivo per cui invece loro non vedevano più la mamma era un altro. Erano vissute con entrambi i genitori nonostante loro non fossero più testimoni di Geroa per sette mesi, ma avevano subito maltrattamenti fisici e psicologici soprattutto dalla madre perché loro volevano rimanere testimoni di Geroa. Le ragazze volevano rimanere testimoni di Geroa. La madre soprattutto non era d'accordo. Un giorno ha cacciato di casa una delle figlie e in un caso di maltrattamento sono stati chiamati anche i carabinieri che sono intervenuti. dopo che la madre ha cacciato di casa una di loro, loro sono andate via di casa. Questa è la storia raccontata dalle figlie che è esattamente l'opposto di quello che la madre ha sostenuto ovunque e questo fatto ci ha colpito. Io sono profondamente convinta che Dio ci abbia creato liberi, liberi al punto di sbagliare. Però per spiegarle il mio concetto la porto un attimo indietro in un momento della mia vita. Io ero con mio marito in barca a vela, c'era stata una burrasca e stavamo tornando dalla Sardegna. Era finita la burrasca e ci siamo trovati in mezzo al terreno. Non si vede più l'Italia, non si vede più la Sardegna e noi eravamo lì in mezzo con un nitido, il nitido che c'è dopo le burrasche. Il sole, il mare, il cielo, il silenzio. C'è un senso di libertà assoluta. Però questo perché? Perché sapevamo che in barca avevamo la bussola e la carta nautica che ci avrebbero permesso di andare dove volevamo andare. Senza quelle saremmo stati persi. Ecco due piccoli strumenti ci hanno permesso di essere davvero liberi. Io questi strumenti li ho trovati, li ho trovati nella Bibbia e questo mi dà il senso di libertà. Io ogni giorno lo sperimento che funzionano, e ogni mattina che mi alzo io decido liberamente di essere testimone di Geova.